Siamo ad Ortona e visitiamo in anteprima la nuova piazza dedicata agli eroi canadesi e siamo con Cristiana Canosa, assessore anche ai lavori pubblici. Grazie per averci concesso il piacere di essere qui in anteprima. Grazie a voi per darci la possibilità di far vedere Ortona nella sua nuova veste. Il piacere dei canadesi è stata un'intuizione dell'amministrazione del sindaco Leo Castiglione, ovviamente sta cambiando completamente il volto della città, abbiamo iniziato da qua e non è un caso che abbiamo iniziato a piazzare dei canadesi perché è la celebrazione della fine di una guerra e questa speriamo che sia per noi la celebrazione della guerra che stiamo combattendo contro il virus e che ci porta alla maledizione di non poter nemmeno inaugurare i tanti cantieri che stiamo definendo per Ortona. Il cambio di nome di questa piazza all'inizio è stato contestato, invece si rende omaggio proprio al popolo calandese anche nella sua configurazione. Sì, guardate infatti questa foglia d'acero che è stata realizzata a terra, qui ci sarà anche una fontana che celebrerà l'amicizia dei popoli italiano e canadese ma anche ortonese e canadese e crediamo che questa possa essere anche una meta turistica. Quando si concluderanno i lavori e qual è stato l'importo? Allora l'importo è stato di circa 200 mila euro con una compartecipazione da parte dei canadesi per circa 30 mila euro. Diciamo che la piazza è ancora chiusa perché per quanto riguarda il prato piantumato da poco deve essere protetto per non essere oggetto di atti vandalici. Poi abbiamo anche realizzato un impianto di telecamera innovativo appunto perché vogliamo che questo sia un luogo preservato così come tutti quelli che stiamo realizzando. Io voglio dire che Ortona dal punto di vista della ricucitura a livello urbanistico sta avendo secondo noi una sua seconda primavera. Nel senso che abbiamo addirittura dato la progettazione della funicolare, quindi adesso è ufficiale, abbiamo affidato la progettazione, così come stiamo ristrutturando tutta la città che aveva fortemente bisogno di questo cambio di passo. Speriamo che questo serva a riportare persone a Ortona con il secondo tratto della pista ciclabile e con tutta una serie di riqualificazioni urbane. Secondo noi Ortona si candida a diventare adesso un modello delle ripartenze.